Sono Ruggero Deodato, vi sto facendo vedere i spot che ho fatto durante la mia carriera cinematografica e pubblicitaria, una parte perché ne avevo fatti almeno un mille e cinque e vorrei reperire tutti ma è una storia molto difficile. Adesso qui stiamo vedendo uno spot dell'Aesso, mi ricordo l'assicurazione per i pneumatici. L'attore è uno dei gufi Magni di Milano e la storia, mi ricordo la scrissi io penso, ispirando un po' al film che avevo fatto, Zeneberg, che avevo girato in questi posti, al castello di Vulci, mi ricordo che l'avevo girato d'estate con i grani alti, questo castello che è un maschio che sta in mezzo ai campi di grani e ha dei risultati stupendi. C'è la scena del rogo, qua che passa in mezzo ai carboni ardenti, l'ho fatto prima di D'Amato che aveva fatto. E poi le riprese poi a Tuscania, ricordando il punto dove avevo girato Zeneberg, è un carosello molto lungo, però è girato cinematograficamente. C'erano tutti i stessi cavallari che usavo nei film di Western. Ecco, guarda che bello, che bellissimo questo campo di grano con il castello. I spot li ho cominciati a fare nel 1970 o 71. Allora Milano con la gamma film, ma tutte, la BRV, la Union, la Pesarico, la Cinetelevisione, Roma per la Recta Film, per Baroncelli, per la Cineteam, praticamente tutte, Eurovisione di Bologna. Mi sono proposto io alla pubblicità portando appunto una pizza di film, del film di Zeneberg.